musica 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 easy easy cecchinata da parte mia oh ma sono qua vicini eh musica musica poco distrutto questo eh musica poco distrutti questi ci vediamo il più forte del mondo abbattimo sta merda ma sono Cristiano Ronaldo e Gesù Cristo abbattila un po' ok ho finito i 101 ah no sono 50 e 50 mi sa un po' bianco bravo uno notcato è sopra non mi sfuggimi a me no mi dà un attimo uno scudo arrivo bravo c'è altra gente eh che stava fightando sta arrivando verso di noi perché c'è sono contro 6 ma è una build battle no è sotto due edge otto da 72 bello un po' costillata eh fe raga c'è uno finile c'è uno finile raga da me ho usato l'arrivo l'ho ucciso vabbè mi ha preso anche lui ok sono solo più spero non in quattro ma figlia ma si spostano proprio quando li sparo eh dove stanno questi scemi? ecco ho saltato nel momento in cui ho sparato uh 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 get the fuck up man oh lì oh sono qua fe fai anche quello sopra prendi quello sopra che è più forte ok ferito distrutto e manca uno è qua sotto fe eccolo è sotto è ferito un botto ai bianco fe bello un botto sono un botto confuso ti giuro fede scendi nel fiume dietro alla colonna lo vedono lo vedono lo vedono guarda pushando get the fuck up man non fotti col mary murder man non fotti non fotti con me vieni da me occhio fede fede non andarlo solo vieni da giù raga da me da me da me raga non uccidete il guando a terra fatemi fare i danni con la pistola ma cosa questo ma cosa non ucciderlo ah scusa scusa no no ma tanto no aspetta pure dato il danno fake raga gente che fight a a est mi sa se guarda qua come lo cecchino e invece so più di uno raga ho serrato uno poco distrutto questo poco distrutto anche questo poco distrutto anche questo poco distrutto anche questo hai fatto le kill aspetta te io li ho papapapa distrutti eh questi io provo a sedere dall'altra parte ma sono due figli vado su intanto uno bravo serrato uno ma sono più di uno fai cioè sono più di due vieni a saltare vieni a saltare poco distrutto questo poco distrutto anche questo poco distrutto anche questo mi stanno sparando un altro sono tutti qua da me ci sta gilben rani team dove sono? eh qua sono più di uno sono loro mi sa quelli che vi dicevo vedi ne ho uno sotto si figa che rompi cazzo che c'ha ancro quello con la minigun put***e l'avevo distrutti poco poco eh poco trappoline intrappolatine nella mia rete pezzi de merda paga altrimenti che tu gilbe vieni quanto l'ho distrutti figa io sono diventato il cicatrice più forte mai fatto sulla faccia della terra vieni gilbe mai fatto? si 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 io sono fatto da dio figa dove è che sono? vabbè dai qua sono gran coglioni ok ucciso? mi piace giocare a rompere i coglioni ci sta questi qua li abbiamo poco distrutti io mi prendo a lanciare altri questi cari erano proprio belli confusi eh comunque ok ucciso uno li ha fatto esplodere la cosa in faccia ah raga sono qua sotto sono qua sotto raga sparate giù raga un secondo arriva il giocatore più forte del mondo ok uno a terra sparate dove sto sparando ai feriti nooo non ci credo raga cosa faccio? e mo? vaiiii vabbè torna indietro torna indietro gilbe figa figa gilbe bella confusa eh che ci sta eh edo ci sta un bot mi hai visto? si ah sono affaitando sono affaitando venite 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 gilbe vieni c'è un trampolino gilbe ma ce l'ho anch'io ce l'ho anch'io vedrai uno è morto dal tempeste ci sta un bot bello confuso aspetta 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 costruisci costruisci solo bello 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 io sei kill quante vuoi? quattro nove fè quattro a dieci e dodici bello pulito è uno a sei gol c'è qua mi stanno sparando da lontano mi hanno tirato un colpo di aria da qualche parte minchia dov'è? sta arrivando altra gente? questo qua l'ho poco distrutto oh scemo anche questa poco distrutta no no è dal palazzo grande oh mio dio l'ho ferito un botto quello lì? raga un altro davanti a me raga solo il cecchino no no raga mi confermano raga c'ho 43 sopra di te sopra di te scuola edi c'entra un polino se lo vuoi usare c'è da te per te gli pinga a luca ah no è da te bravo bravo sopra di te sopra di te sopra di te sta fightando con luca oh bravo 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 ce n'è ancora uno sopra è feritissimo perché l'ha ferito quella trappola no non ci credo non ci credo non ci voglio non ci voglio credere cosa stai per fare cazzo non ci voglio credere veramente io questa qua la stavo reccando eh avevo fatto un macello raga porcettine nooo c'è una torre con me oh dietro di me muori scemo si ritrova adesso aspetta 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 oh bravo c'ho altro l'ho 840 l'ho 840 penso che fosse rimasto con 10 dai nooo non ci credo arrivo 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 scusa se te l'ho fottuto no no aspetta che c'è uno qua ah c'è un amico che va a cercare altrimenti ah la resta no aspetta nooooo mi cido mi cido mi cido io l'ho ferito una volta madonna che presa male che mi ha fatto venire questo qua ti giuro ero avevo purtroppo di tirarmi il lancio razzi addosso lo sai che è che potevo sparare pure il razzo prima però non si può usare questo un trappolato tuo se ti avessi un trappolato tuo ah ok ok